buonasera ecco qua sono con alina dietro di me e alina mi ha dato questo foglio proprio pochi minuti fa mi ha detto pregare per favore per anastasia che sta male no io mi sono ricordato di questa anastasia che un mese fa circa qualcun altro mi aveva dato il foglio stiamo pregando per lei tutti i giorni infatti eccolo qua anastasia 26 anni e allora ho chiesto alina come è possibile noi ci conosciamo da due giorni a alina sei venuta qua come mai c'è questo collegamento mi ha detto perché è venuta la 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 madre io sono la zia e la zia di 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 anastasia poverina una ragazza ucraina che era addirittura commissario di polizia e ha subito un incidente gravissimo è rimasta paralizzata e stiamo pregando per lei è successo a luglio noi abbiamo pregato incominciato pregare un mese fa circa un mese e mezzo fa e sorpresa c'è una sorpresa qui qual è questa sorpresa che come sta adesso anastasia sta un po meglio un po cammina già come comincia due mesi così piano piano lei cammina ecco quindi a posto quindi speriamo anche di più si grazie quindi magari ecco che nostra anastasia ecco bene quindi questa è una cosa molto spiacevole perché una è una bella ragazza poi anche anche commissario di polizia vero 26 anni ed è rimasta paralizzata anche noi eravamo rimasti molto scioccati di questa notizia abbiamo subito pregato e continuato a pregare e sta ringraziando perché dice che ci sono dei miglioramenti addirittura sta incominciando a camminare piano piano quando era paralizzata perché lei è molto forte forte come una persona ecco perché lei ci vuole tutto bene perché c'è anche piccolo figlio e lei ci vuole vivere per la sua famiglia certo e allora continuiamo a pregare per anastasia che possa stare meglio e ringraziamo il signore ringraziamo per questo foglio che ha dato alina e che abbiamo collegato che lei era la zia grazie signore continuiamo a pregare per anastasia che possa guarire completamente e glorificare il signore gloria sia sempre al signore e solo a lui